Primo spettacolo Nasce proprio come una storia d'amore nella quale però a un certo punto si inserisce un problema Questo uomo viene messo in carcere perché è accusato di corruzione Lui è un ingegnere che lavora per il comune e come tristemente vediamo su tutti i giornali Ogni giorno questi fenomeni sono molto diffusi e comuni Riguardano tutte le città qui non si dice quale città sia Ma potrebbe essere uno dei tanti casi di corruzione che capitano in Italia Però noi sappiamo che lui è innocente Cioè dall'inizio dello spettacolo noi sappiamo che è innocente E attraverso dei flashback andiamo a vedere come l'amore tra queste due persone è nato all'inizio Quindi qual è stata la promessa di partenza Qual era il sentimento pulito, forte e anche appassionato dell'inizio E come si è trasformato e si è evoluto a causa di questa incarcerazione, di questa accusa di corruzione È una commedia romantica, c'è l'amore al centro di tutto, però immaginiamo anche il dramma umano Sì, è sicuramente una situazione estrema che questa persona, quest'uomo si trova a vivere Peraltro un uomo profondamente onesto, d'animo Che si trova ad affrontare qualcosa che lo sconvolge a tal punto da trovarlo impreparato E c'è una frase con cui inizia lo spettacolo che Angelo ha trovato E che secondo me è emblematica di quello che succede nella storia E che è la galera non è stare dentro ma è avercela dentro Cioè non soltanto lui non fugge dal carcere perché ne sarebbe incapace probabilmente Ma anche se lo porta dietro quando ne viene fuori Quindi se lo porta dentro di sé come una grossa ferita che lo lacera in qualche maniera E che inevitabilmente finisce con avere una conseguenza traumatizzante all'interno dell'equilibrio del rapporto di coppia E che è un'interno dell'equilibrio del rapporto di coppia